Buongiorno a tutti e un sacco di roba è oggi, quindi andiamo subito al punto proprio di corsa e partiamo immediatamente con un paio di novelle da GitHub GitHub trovate sul blog ufficiale la prima è l'introduzione dell'autenticazione passwordless ne abbiamo già parlato, insomma ormai dovrebbe essere abbastanza chiaro a tutti che cosa sono le pass keys e come funzionano, bene è stato introdotto ufficialmente insomma comunque sono ancora in public beta non disponibile a tutti comunque l'autenticazione passwordless su GitHub non sto tanto ad approfondire qua comunque andate a dare un'occhiata al blog di GitHub il post si intitola Introducing Passwordless Authentication on GitHub.com e quindi ci sono tutti i passaggi su come attivare questa feature e come poi sfruttarla naturalmente per chi magari si fosse perso questo passaggio che poi è fornito anche ormai da Google sia ad account privati che ai workspace ebbene le pass keys sono sostanzialmente la combinazione di un qualcosa che l'utente è o sa quindi per esempio l'autenticazione biometrica o un PIN è qualcosa che l'utente possiede che sarebbe un pass key appunto una chiave generata e salvata sul device e semmai condivisa con nessuno questo vuol dire che l'autenticazione è resa possibile dal fatto che l'utente possiede un device come uno smartphone o una chiavetta o insomma comunque o anche un PC ci sono dei software come One Password che consentono di fare questo ovviamente è possibile associare più device quindi nel caso se ne perdesse uno poi ce ne sono altri questo consente poi di accedere semplicemente appunto attivando l'autenticazione biometrica o con PIN senza dover ricordare o digitare una password e questo quindi è la notizia dell'introduzione ecco di questo modello di autenticazione per ora in public beta anche su Github la seconda news velocissima su Github è invece questa che si chiama Merge Queue che è questa generale available quindi non è in beta e non credo che sia proprio attrattiva per tutti e per tutti i repo è rivolta specificamente a chi ha necessità a chi ha per esempio un monorepo team grandi che committano spesso sullo stesso branch su un branch main, su un branch develop e fanno magari o un trunk based development o comunque molti Merge Request ecco cosa succede con molte Merge Request che magari la CICD di una Merge Request passa in isolamento ma mentre sta passando un'altra precedente viene Mergeata ecco quindi che il Merge della seconda porta poi a rompersi la pipeline di test o di build sul main branch perché queste due avevano dei conflitti o comunque dei problemi introdotti dall'una o dall'altra che messi insieme rompono la build principale e questo naturalmente porta a poi dover rilavorare dover guardare i conflitti dover rifare altre Merge Quest immaginate l'intim molto grandi con repo molto grandi questo può capitare molto spesso bene, cosa fa GitHub? Introduce questo concetto delle Merge Queue e sostanzialmente cosa sono? Sono delle code appunto se attivato perché può essere attivato sul main branch come regola di protezione del branch sia da repository pubblici che da chi ha un GitHub Enterprise Account Cloud e questa regola consente appunto di aggiungere una Merge Quest alla coda quando GitHub prende tutte le Merge Quest quando ci sono tutte le Merge Quest in coda GitHub le prende tutte insieme crea un branch temporaneo e poi lancia la Contribution Integration su tutto questo branch temporaneo quindi con tutte le modifiche delle Merge Quest delle Pull Request in questo branch e solo se tutte passano allora va a mergiare se uno di queste non passa la toglie cioè se uno di questi crea problemi la toglie dal branch e in ogni momento è anche possibile andare a verificare lo stato della coda lo stato della propria Merge Quest in coda a toglierla e aggiungerla eccetera e questo è fondamentalmente questa è la Merge Quest Queue ecco di GitHub potrebbe essere interessante perché appunto è in questa situazione che ho descritto magari è particolare non è per tutti non è per i sviluppatori singoli non è per tutti i team ma per progetti grandi insomma potrebbe essere molto interessante bene chiudo con questo dittico su GitHub e vado alla forse notizia del giorno insomma quella di cui tanti hanno parlato o stanno parlando ieri il signor Elon Musk vabbè parliamo sempre di Elon Musk vabbè non è che mi faccia proprio un piacere pure a me però se fa di tutto per essere al centro dell'attenzione purtroppo gli diamo un pochino un minimo di attenzione glielo dobbiamo dare perché fa anche delle cose frizzanti divertenti da raccontare bene qual è l'ultima? l'ultima è il lancio di XAI e lui c'è la cosa sta roba di X però ho fatto sapere che non c'entra niente con X Corp cioè la la sua azienda quella che adesso è Twitter praticamente ecco sono due aziende separate XAI e X Corp sono due aziende separate quindi lui ha creato questa XAI che come dice il nome si dovrebbe occupare di AI ne parlano un po' tutti qui trovate vi segnalano un articolo di The Register quindi Elon Musk lancia il suo business XAI e attenzione al titolo perché il titolo dice To Understand Reality quindi per capire la realtà perché dice questo perché come anche potete trovare nell'articolo di The Verge il tweet di Elon Musk per lanciare questa sua iniziativa è questa Announce Information of XAI to Understand Reality e anche sul sito di XAI proprio così troneggia questa frase questo claim Understand the Universe e se voi leggete nel testo del sito web di XAI dice proprio l'obiettivo di XAI è Understand quindi capire la vera natura dell'universo no? non meglio lo specificato e poi potete vedere il team che compone questa nuova startup questo nuovo questo nuovo gruppo di supereroi messo insieme da Elon Musk tra cui per esempio c'è Igor Babushkin che qualcuno forse ricorderà è un ex Google DeepMind eccetera che aveva lasciato Google già si rumoreggiava che avesse in mente di fare qualcosa con Musk ebbene adesso fa parte di questo gruppo poi ce ne sono altri sono tutti diciamo ex membri di startup come OpenAI o Google eccetera che hanno lavorato sull'AI quindi è un po' un team di gente che ha già esperienza nel campo qua ce ne sono un po' non c'è una donna che sia una naturalmente come spesso succede nelle aziende di Musk ma non è voglio dire niente è soltanto una constatazione ebbene quindi vi segnalo che ne parlano un po' tutti ma quelli più completi sono gli articoli di The Register e dell'ottimo The Verge con un po' anche di dietro le quinte su quello che è successo bene questa era insomma la notizia su XAI se vi interessa quello che fa il signor Musk ecco questa è l'ultima delle sue trovate ora torniamo a parlare di Linux vi ricordate la settimana scorsa abbiamo parlato di Red Hat Enterprise Linux e della sua mossa per inimicarsi un po' tutto il mondo del Linux e dell'open source con cui aveva chiuso i sorgenti di Red Hat Enterprise Linux e messo a disposizione soltanto dei propri clienti paganti o non paganti non è importante se volete riapprofondire un pochino quel tema che non sto a riprendere adesso c'è una mia puntata appunto di un buongiornone su questa news la settimana scorsa e poi tra l'altro anche l'ultimo episodio di Continuous Delivery Podcast ne abbiamo parlato in maniera più estensiva quindi se volete un po' di discussioni un po' di un po' di chiacchiera a riguardo con un po' di dettagli in più su quella roba lì di REL quindi di Red Hat lo trovate lì non sto a ridirlo però in pratica il succo era questo Red Hat aveva chiuso i repository open source liberi del suo Linux della sua distribuzione Linux del suo kernel Red Hat Enterprise Linux questo aveva causato un po' di problemi e naturalmente l'annuncio di Rocky Linux e di Alma Linux che sono due diciamo fork di Red Hat che avrebbero continuato comunque a fornire questo servizio con tecniche strane tra cui per esempio l'accesso ai sorgenti usando le Universal Base Image insomma di container docker insomma da cui prendere questi questi sorgenti bene l'annuncio di ieri invece interessante su questo fronte arriva da Suse Suse altra azienda altra compagnia che fornisce una distribuzione enterprise open source che è Suse Enterprise Linux e una distribuzione completamente aperta community che è open Suse bene che ha detto Suse Linux trovate questo annuncio su DaRegist per esempio che Suse annuncia la sua la sua propria distro compatibile con Red Hat Enterprise Linux di nuovo perché di nuovo perché Suse aveva già fatto questo all'epoca nel 2020 quando c'era stato il problema con 100S vi ricorderete che Red Hat aveva chiuso anche 100S e aveva lasciato soltanto Stream che è un pezzo insomma del gioco e Suse all'epoca aveva creato un suo fork un suo fork di 100S 8 e insomma l'aveva reso disponibile open oggi a seguito dell'annuncio di Red Hat Suse naturalmente si inserisce e annuncia che renderà disponibile una sua distro compatibile pienamente con Red Hat lo fa in accordo con Rocky Linux a quanto pare e anche su Foronix trovate l'annuncio quindi che Suse annuncia questo fork di Red Hat dal sito del blog insomma dal sito ufficiale di Suse c'è proprio tutta la notizia e si parla di un investimento di più di 10 milioni di dollari su anni quindi per mantenere questa distro disponibile e open per tutti quindi vedremo adesso quali saranno un po' le reazioni quello che succederà tra l'altro è interessante anche che dice Suse che è in programma di fornire di donare di submittare tutto questo codice questo repo a una foundation quindi a una open source foundation non meglio specificata per ora però insomma potrebbe diventare un progetto sostenuto da una foundation è interessante anche vedere questa competizione tra Suse e Red Hat e vedere anche come Red Hat risponderà se risponderà e come risponderà anche la community open source comunque c'è del fermento nel mondo nel mondo Linux quando questi due grossi nomi si muovono la chiudiamo qua perché non vado non direi che non vado ad approfondire oltre però vi ho lasciato tutti i riferimenti da register a Foronix al blog ufficiale di Suse per andarvi ad approfondire voi stessi ho solo due ultime cose in chiusura da fare la prima ve la sparo molto velocemente non la commento Microsoft ha deciso di cambiare per qualche motivo il nome di Azure AD quindi il suo sistema di autenticazione di autorizzazione a cambiare il nome che ora si chiamerà Entra non si sa bene quale sia la motivazione perché è più di 10 anni praticamente che Azure AD esiste si chiama così e ora cambia nome diventa Entra Microsoft naturalmente giura che non ci sarà nessun problema nessun caos la documentazione rimane uguale tutte le API ovviamente rimangono uguali non cambia assolutamente niente è soltanto un nome nome commerciale diciamo del prodotto che si chiamerà appunto Entra questo naturalmente cambierà la nomenclatura anche di altri prodotti che avevano Azure AD nel nome quindi per esempio Azure AD free diventa Microsoft entra ID free Azure AD premium diventa Microsoft entra ID P1 e P2 insomma ci sono un po' di cambiamenti alla nomenclatura però questo non dovrebbe cambiare nulla per gli sviluppatori a quanto dice Microsoft se non mi permetto forse un po' di caos nelle comunicazioni inizialmente non lo so un rebranding di cui probabilmente Microsoft sentiva il bisogno forse gli sviluppatori no ma chi sono io per giudicare le mosse commerciali di Microsoft no comunque se volete approfondire anche questo l'articolo di The Register su Azure AD vi dà tutto vi dà anche delle piccole interviste con sviluppatori e sviluppatori di Microsoft che commentano è una notizia curiosa interessante da sapere chiudo davvero però questa volta celebriamo celebriamo un prodotto open source ne abbiamo già parlato qualche tempo fa in occasione del reveal del nuovo logo e sto parlando di Mozilla Thunderbird ebbene celebriamo quindi l'uscita ufficiale di Thunderbird 115 codename supernova quindi si chiama supernova questa nuova release e come avevamo già visto oltre al logo nuovo che riprende ovviamente assomiglia molto a quello di Firefox c'è anche tutta la nuova interfaccia il major revamp della UI e infatti questa notizia ripresa un po' di tutti per esempio OMG Ubuntu insomma parla proprio nel titolo di major UI changes anche Foronix naturalmente Foronix addirittura titola il looks fantastic e effettivamente se guardate insomma gli screenshot adesso prendiamo un po' il blog ufficiale di Mozilla c'è questa nuova totalmente nuova interfaccia niente di oh non è che si rivoluziona il paradigma si riprende molto dalle interfacce delle webmail più moderne come Gmail perché però è rimasta un po' indietra diciamo superata direi più alto di citare Proton o Fastmail ecco come esempio un pochino più moderni di interfacce di mail e Thunderbird un po' riprende quei concetti lì con le sidebar e la divisione della sua divisione dei thread e questo insomma potete vedere sull'annuncio ufficiale un po' di cose naturalmente il calendario un po' i nuovi settings con i nuovi font e tra l'altro su OMG Ubuntu ci sono anche degli screenshot con le comparazioni vedete la comparazione tra Thunderbird 102 e Thunderbird 115 proprio 102 adesso sembra un'altra epoca sembra un'altra era improvvisamente diventata vecchia di parecchi anni e quindi tutte le comparazioni tra varie schermate ve le fa notare OMG Ubuntu naturalmente questa release non include soltanto cambiamenti alla UI ma come potete trovare elencati insomma ci sono anche cambiamenti alle calendar alle cartelle insomma local folder i controlli di densità dei messaggi nuovi colorazioni ai tag miglioramenti all'address book quindi insomma alla rubrica nuove cose sull'accessibility miglioramenti a open pgp il supporto anche o auto 2 per fast mail chi usa fast mail come ah ah il sottoscritto consigliatissimo fast mail c'è il supporto a o auto 2 e insomma c'è di novità e pur non usando insomma Thunderbird perché ormai siamo abituati io sono abituato al client web mail o alle app mobile insomma dei produttori dell'email però è un progetto open source molto grande insomma dei progetti storici più grandi che abbiamo ed è interessante vedere come va avanti quando ne avevamo parlato qualche mese fa ormai nello sviluppo di questa nuova release parlavamo di questi nuovi investimenti di Mozilla un nuovo team insomma persone che ci lavorano molto anche la difficoltà che aveva in precedenza Thunderbird nel mantenersi anche al passo con i release di Firefox eccetera insomma è bello vedere che il release c'è è a quanto pare solida ed hanno fatto un ottimo lavoro un ottimo lavoro di revamp e di modernizzazione di UI e di tutto bene io direi che questa puntatona la chiudiamo qui grazie per avermi seguito probabilmente ci vedremo anche domani spero perché domani sarà proprio l'ultima l'ultima prima della mia pausa estiva di luglio quindi spero che ci vedremo domani se non ci vediamo o se non mi seguirete vi auguro anche a voi di passare una buona estate una buona vacanza perché il caldo non ci agevola nella nostra routine quotidiana è meglio andarsi a riposare un pochetto grazie per avermi seguito ci sentiamo ovunque e alla prossima ciao ciao